Rimani aggiornato sulle notizie di gossip, cronaca, reality show, sport ed altro. Iscriviti al canale Notizie Flash. Millie se ne va a pochi giorni di distanza dalla scomparsa della moglie. Era malato da tempo. Nato a Milano nel 1929, Millie iniziò la sua lunghissima carriera a teatro sotto la direzione di Giorgio Streller. Seguì il debutto al Piccolo Teatro di Milano nel 1951. Ha ricoperto spesso ruoli di prelati. Come nel Marchese del Grillo di Monicelli o in nome del Papa Re di Luigi Magni. Ha lavorato con Lino Banfi e Paolo Villaggio. Era noto anche al pubblico televisivo per aver recitato in fiction come centrovetrine un medico in Famiglia 9.